stavo accendendo tutto per registrare e mi sono ricordata che cosa ho registrato l'altra volta con io che canto all star vabbè e tra l'altro mi è venuto in mente ma hanno fatto qualche altra canzone loro e soprattutto che vi ne hanno fatto i good charlotte i green day spaccano ancora ma i good charlotte non lo siete più niente e all'anismo reset che vi ne ho fatto dov'è all'anismo reset vabbè comunque ho rispolverato perché adesso viene la bella stagione e quindi è più facile fare le foto con questa la mia istax la mia istax ministra carina che fa le le foto in formato polaroid perché polaroid in realtà è la marca no non si dice polaroid per tutte come si chiamano queste votine vabbè diremo 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 formato polaroid e niente volevo vedere un attimo semplicemente è troppo piccolo è troppo difficile mi stanno vedendo gli scarisoli comunque ci volevo vedere quante foto ci fossero ancora dentro vediamo e se si accende ancora e se si accende ancora ah non c'è la batteria vero ok trovata la batteria mettiamo la batteria dentro cioè vabbè fantastico dire se si accende ancora vuol dire che non si accende no com'è com'è così ok magica trippi con il tuo sorriso chissà dove arriverai lontano con le tue gambe ultra snodate ce n'è una ce n'è una sola ce n'è una sola vorrei farla vorrei farla adesso ma non so che cosa farla al setting qua ti ricordo di quel meno sparta perchè non si riesce mai a inquadrare con questa cosa vabbè quello che esce esce voilà si è fatta ok basta quindi questa è vuota perfetto e poi ho intanto che si fa questa ho questa anche come vedete ho una difficoltà con queste cose incredibili ok ho questa che è sempre insieme a quello praticamente questa è questa fa il foto quel telefono le modifiche e tutto e poi c'è l'applicazione che li stampa direttamente vediamo anche questa quante ne ha perchè ho trovato questo che è un pacchetto vecchissimo non so da quanto tempo non so da quanto tempo in giro sicuramente molto probabilmente sono scadute 2.021.06 sono chiaramente scadute ma non fa niente perchè quando scadono semplicemente i liquidi che ci sono dentro tappiano variano e quindi può essere che viene comunque una cosa carina lo stesso magari c'è un colore diverso o una forma diversa non lo so come spiegarvi però si possono comunque utilizzare quelle scadute io quando ero in inghilterra nei mercatini dell'usato avevo i pacchetti abbandonati così e ne compravo tantissimi intanto questa foto è oscena quindi non ve la farò mai vedere no vabbè è bruttissima è bruttissima e sta ancora uscendo lasciamo perdere ma farsi selfie con quella cosa è impossibile se è così buio ma in realtà no ho proprio ho proprio preso una vabbè ho preso un appaglio ho preso un appaglio e di solito la uso più per fare le foto agli altri regalarle quella perché è meglio guardare dentro e fare la foto perché l'unica cosa che apre è farmi selfie e capire che cosa diavi ne stai facendo è questo è questo minuscolo specchiettino qua quindi voglio dire infatti adesso non so dove mettere il pacchetto se in questa o in quella lì ho preso proprio un'angolazione pacchissima sono indecisa adesso forse però forse però la metto nell'altra perché almeno non devo portarmela in giro per fare le foto posso fare le foto con il telefono e poi stamparle mentre questa devo sempre portarmela ed è più per le occasioni tipo non esco sempre con questa vabbè ciao la vediamo la vediamo la vediamo la vediamo Grazie a tutti.